la prima lezione di meditazione la prima cosa da fare è trovare la giusta posizione per coloro che sono seduti a terra incrociate le gambe portando il piede destro sulla coscia sinistra mentre la gamba sinistra rimane sotto la gamba destra le mani concerti sono appoggiate sulle gambe con entrambi i palmi rivolti verso l'alto facendo attenzione che la mano destra rimanga sopra la mano sinistra se è possibile chiedete più attenzione unendo il pollice della mano sinistra con l'indice della mano destra cercate comunque di mantenere la posizione sempre eretta ma mai in tensione per coloro che sono seduti sulla sedia consiglio di mantenere sempre la schiena dritta e intanto di mantenere sempre la posizione più comoda unite le mani davanti all'addome e fate attenzione che l'indice della mano destra vada a toccare con il pollice della mano sinistra iniziamo la meditazione chiudete delicatamente gli occhi senza sforzarvi rilassate tutti i muscoli del vostro corpo mantenete la tranquillità e la serenità che in thailandese si dice sabai sabai respirate a pieni polmoni perché ci aiuta ad allontanare i pensieri negativi inspirate ed espirate delicatamente mantenete il respiro lento e profondo potete percepire la sensazione del soffio dell'aria sul vostro viso sulle vostre parti scoperte che vi rende una sensazione bellissima come una carezza come una carezza seguite il ritmo costante della vostra respirazione seguite il ritmo costante della vostra respirazione la vostra tranquillità la potete percepire potete anche immaginare oppure di essere seduti in cima ad una montagna oppure di essere seduti al mare sulla spiaggia più bella che conoscete la cui forma vi ispiri continuate a respirare delicatamente inspirate inspirate dolcemente dal naso portando il vostro respiro fino al centro del vostro addome percepite energia positiva energia pura pulita che vi rende forti riuscite anche a percepire la sensazione del benessere ad ogni respiro e quando espirate immaginate di espellere tutti i pensieri negativi tutte tutte le vostre preoccupazioni tutte le vostre ansie tutti e i vostri problemi mantenete il resto respiro profondo, costantemente, dolce e delicato, respirate in modo naturale e ad ogni respiro, portate la vostra attenzione al centro del vostro addome. Rilassatevi completamente e rimanete concentrati sulle vostre immagini che vi rendono felici, contenti e sereni. Un po' alla volta diventate consapevoli del vostro respiro. L'ossigeno che entra ed esce dal vostro corpo. Osservate il vostro respiro senza mai modificarlo. Diventate consapevoli di ogni inspirazione, così com'è per tutta la sua durata. Prestate attenzione anche a alle pause tra un respiro e l'altro, tra un'inspirazione ed un'espirazione. non preoccupatevi di perdere la concentrazione se qualcuno o qualcosa vi ha distratti. semplicemente ricominciate da capo. ritornate al vostro respiro, inspirando ed espirando dolcemente. ricordatevi che la vostra mente è alla base di ogni forma di pensiero. potete anche immaginare che il vostro respiro prenda la forma di luce. una luce molto luminosa. una luce che attraversa il vostro naso fino a raggiungere il centro del vostro addome. ora visualizzate la vostra luce. la luce che riempie tutto il vostro corpo. potete percepire il calore che essa emana. la sua intensità. la vostra mente si fa sempre più calma, più rilassata. più rilassata. lasciate che questa luce attraversi tutto il vostro corpo. attraversi tutto il vostro corpo. attraversi tutto il vostro corpo. si tratta. attraversi tutto il vostro corpo, aiutate il vostro corpo e aiutate le stesse. per il vostro corpo. a passare le pochi rilassarie. ospite il vostro corpo. a passare le pochi rilassare le nostre voce. potete recitare il mantra Samma Arahant Samma Arahant che può essere lo strumento per fermare i pensieri vaghi e che significa la giusta via potete anche dire limpido brillante limpido brillante ad ogni respiro immaginate la luce in tutto il suo splendore e dite Samma Arahant Samma Arahant Samma Arahant Samma Arahant Limpido brillante brillante limpido brillante limpido brillante Mantenete Mantenete sempre l'attenzione sul vostro sul vostro addome sul vostro addome il vostro respiro ad ogni inspirazione espande le pareti del vostro addome che si rilassa quando ispirate che si rilassero e ora continuate a meditare da soli per un po' che si rilassero 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 e che si rilassero non la che si rilassero l'uomo Prima che apriate gli occhi per finire la lezione della meditazione vorrei invitarvi ancora a pensare al bene che avete ottenuto oggi durante la vostra meditazione il bene per curare voi stessi ed espandere la vostra sensazione del bene agli altri soprattutto alla vostra famiglia fino a tutti gli esseri che abitano intorno a voi a tutta l'Italia e fino a coprire tutto il mondo a tutta l'Italia Continuate ancora a respirare profondamente. Ed ora, riportate i vostri sensi al risveglio. E se siete pronti, aprite gli occhi adesso. Grazie.